Questo programma è offerto da Tecnocampus Lunedì 27 maggio, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche in questa giornata alla quotidiana Rassegna Stampa che come ogni mattina è offerta da Tecnocampus E anche oggi vediamo tanti fatti primo piano ma il primo fatto che ci balza proprio agli occhi e ovviamente risuona nelle nostre orecchie sono le elezioni europee i risultati che nella notte sono stati scrutinati e sono arrivati proprio a tutti noi e cominciamo a vedere direttamente quelle che sono le percentuali di questa mattina ovviamente non tutti i seggi sono stati ancora scrutinati ma la maggior parte di essi sì quindi cominciamo a vedere direttamente le percentuali e vediamo che in testa ovviamente c'è la Lega al 34,34% seguita dal PD al 22,73% e solamente al terzo posto il Movimento 5 Stelle con un 17,05% Forza Italia 8,78% Cresce Fratelli d'Italia e va al 6,46% Più Europa 3,09% Sinistra Italiana 1,74% Gli altri a 2,29% Insomma veramente un movimento in avanti per la Lega ma anche per il PD e sembra proprio che adesso le carte siano di nuovo in gioco e sembra che si stia facendo ancora un movimento che alla fine porterà qualcosa di diverso soprattutto in Europa ma questo comunque lo vedremo ovviamente nel corso del tempo intanto vediamo quali sono i fatti in primo piano ovviamente c'è chi già grida alla crisi di governo Movimento 5 Stelle di Maio in prima linea dice assolutamente no si va avanti e si va avanti per 4 anni ma cominciamo a vedere i fatti come ci vengono raccontati in questa giornata dalle testate italiane partiamo con la verità Lega primo partito ecco cosa cambia gli exit poll danno una sola certezza Salvini ha quasi un terzo degli elettori dalla sua parte mentre il Movimento 5 Stelle in piena decrescita infelice quindi ora il leader leghista può finalmente dare una sterzata al governo e il centrodestra si prende anche il Piemonte ancora nella parte centrale della pagina la Le Pen che nello stesso modo come il partito di Salvini si trova a essere prima in Francia surcrassando anche Macron ora sciolga il Parlamento dice infatti la vediamo soddisfatta in questa immagine ancora vediamo il Movimento si è buttato sotto il carroccio quella che viene definita strategia suicida mentre nelle interviste del lunedì l'economista Nicola Rossi pure la sinistra appoggi la tassa piatta e ancora Roberto Bernardini questo 2 giugno parata di ipocrisie mentre nella parte centrale velo intoccabile chi fa vietata l'Europa è sempre più eurabbia in Germania sconsigliano agli ebrei di farsi riconoscere pensate un po' troppi neonazi e islamici e ancora la confessione di Theo Boer che errore legalizzare l'eutanasia in Olanda pentito di aver collaborato ed infine nella parte bassa della pagina il dizionario di Silvana i genitori non devono essere democratici questo viene raccontato da Silvana De Mari insomma secondo questa giornalista e secondo questo che racconta e dice le famiglie non funzionano se i genitori sono troppo democratici ma probabilmente questa è un'opinione sta a ciascun genitore stabilire quello che è più consono per la propria famiglia perché ovviamente come qualsiasi cosa non è la maggioranza che detta la legge ma semplicemente ciò che il proprio cuore la propria capacità di investire sulla famiglia determina e ancora vediamo Inter col brivido e Atalanta in Champions Milan fuori e in Serie B ci finisce l'Empoli ancora vediamo gli altri fatti in primo piano andiamo a vedere le altre testate nazionali e vediamo questa mattina come ci viene raccontata la giornata attraverso il Corriere della Sela e infatti vediamo che la Lega vola il PD supera il Movimento 5 Stelle voto europeo crollo dei 5 stelle Salvini intanto esulta e detta la nuova agenda di governo ancora vediamo nella parte centrale della pagina i risultati europei 2019 ancora una volta dati provvisori ovviamente però possiamo vedere anche qui 34,6% per la Rega 23% per il PD 16,6% per il Movimento 5 Stelle 8,6% per Forza Italia 6,4% per Fratelli d'Italia pesi invertiti patto più fragile e infatti è quello che ci consegna l'Europa un'Italia più salviniana e meno grillina insomma questo è lo specchio di un'Italia che oggi si presenta dopo il voto europeista e adesso vedremo che cosa determinerà appunto questo voto e intanto vediamo in Francia la vittoria di Le Pen ma i sovranisti restano minoranza e ancora così ha influito la lotta sul clima quanto viene raccontato appunto da questa prima pagina del Corriere della Sera ma ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei giornali italiani andiamo su un altro quotidiano che è il Fatto Quotidiano e vediamo che cosa accade nella parte alta della pagina una notizia che riguarda un po' tutti è morta a 74 anni Vittorio Zucori grande giornalista ha raccontato l'Italia e il mondo spesso era in disaccordo con noi perciò ci mancherà di più dicono appunto dal fatto e ancora vediamo nella parte alta della pagina stragi di mafia fuori dal pool della DNA sui mandanti esterni di Matteo Sirurato per un'intervista ora si aspetta il CSM e ancora per le auto si riunisce a borse chiuse il CDA del gruppo francese FCA Renault oggi è il giorno della verità a quanto pare col fattore Nissan e ancora vediamo in apertura di pagina come è giusto che sia tutto dedicato alle elezioni europee vediamo le proiezioni la Lega ribalta gli equilibri giallo-verdi esponda il 30% governo Conte sempre sopra il 50% Piemonte alle destre comanda Salvini crollo dei 5 stelle col sorpasso del PD e ovviamente questa è la situazione che nella giornata di oggi sembra sempre essere più trafficata e sembra sempre portare verso quello che ancora ovviamente noi ignoriamo la situazione si presenta così come la possiamo vedere da tutte le testate ossia il partito di Salvini ha davvero fatto un passo in avanti per quanto riguarda le elezioni ma soprattutto ci mostra che cosa accade in realtà in questa nostra nuova giornata e ancora vediamo quali sono gli altri fatti in primo piano eccolo qua nella parte bassa della pagina l'amore passa ma Netflix resta una ricerca appunto fatta dal fatto quotidiano una persona su tre preferisce la serie a una notte di sesso pensate un po' che cosa raccontano da queste prime pagine ovviamente i gusti degli italiani sembrano sempre più diversi più disparati ma ovviamente ci lasciano un po' perplessi e ancora vediamo le altre notizie in primo piano andiamo a vedere il giornale in questa giornata il governo addio questo urla proprio questa testata terremoto e elezioni grillini a picco sorpassati dal PD Di Maio ora rischia lega al 33% forse Italia tiene e fratelli d'Italia ok il centrodestra c'è in Europa Macron crolla ma i sovranisti però non sfondano perché ovviamente il sorpasso c'è stato ma di poco e rappresenta comunque una volontà di cambiamento ma entro un certo limite e infatti vediamo che cosa racconta in questa mattinata a Sallusti la lega di Salvini allunga i 5 stelle precipitano probabilmente scavalcati anche da PD di Zingaretti Forza Italia resiste e lo stesso vale per fratelli d'Italia in sintesi il governo Conte e Guida Di Maio ne esce massacrato dalle elezioni europee e ora si aprono nuovi scenari anche perché nel complesso i sovranisti crescono ma la penna in Francia a parte non sfondano in Europa e vediamo ancora Conte Bersaglio Mobile non vado al massacro Luigi si adegui alla Lega e ancora il vicepremier che festeggia il trionfo Salvini bacia il crocifisso dalla Flattax alla Tav ora avanti sui nostri temi ancora una volta un gesto di quelli che lascerà molte persone interdette la Chiesa Cattolica già si era schierata contro questi gesti ma a quanto pare nonostante gli anatemi e soprattutto la volontà di andare contro chi si serviva degli oggetti sacri non ha dato i risultati sperati ancora la svolta in Piemonte vince il centrodestra sconfitto Chiamparino e ancora anche da questa pagina morto Zucconi partigiano della penna aveva 74 anni mentre nella parte bassa della pagina Fiat Sposa Renault nasce il supergruppo rivoluzione nel mondo dell'auto infatti tutto pronto per l'annuncio dell'accordo tra FCA e Renault all'interno dell'alleanza tra i francesi Nissan e Mitsubishi forte segnale in questa direzione arrivano dalle piazze di Parigi e Tokyo in mattinata prima dell'apertura delle borse il CDA di Renault darà la benedizione al patto con il lingotto con l'Europa desiderata e comunque arrivata dalle elezioni i due gruppi hanno lavorato in segreto sulla definizione di questo accordo e ancora i verdetti finali per quanto riguarda il mondo del calcio Serie A Thriller Atalanta e Inter in Champions e Empoli in B ancora vediamo le altre prime pagine dei quotidiani nazionali il tempo e vediamo nella prima pagina di questo quotidiano un Matteo Salvini estremamente soddisfatto e come non potrebbe visto che trionfa Salvini e con lui la Meloni europea lega prima al 30% exploire di Fratelli d'Italia il PD vede il sorpasso su Movimento 5 Stelle e tiene il Cavaliere con questi numeri sovranisti a un passo dalla maggioranza crisi di governo in vista si pone proprio questo interrogativo questa testata e Le Pen invece verso la vittoria a Manstrasburgo regge l'asse franco tedesco ancora vediamo nella parte centrale l'Olimpico da brividi per l'ultima partita del capitano che vediamo ritratto proprio in questa immagine core, striscione e tanti lacrime l'addio di De Rossi alla Roma ancora l'assolto per il giallo di Monteverde dopo che si era fatto tre anni di galera l'assassino si è scoperto non era in realtà lui l'odissea di un giovane romano in cella per abuso sessuale ma lei si era inventata tutto insomma ancora una volta in prima pagina notizie che ci lasciano sempre più inquieti soprattutto perché si usa la violenza si usa la denuncia di atti contro se stessi per fare del male alle altre persone ma in realtà non ci si rende conto che questa è una violenza che si fa a tutti soprattutto alle donne nel momento in cui si denuncia una violenza subita che in realtà non c'è stata si incomincia a far credere che tante donne potrebbero mentire insomma prestiamo veramente attenzione a tutti questi fatti ma soprattutto diciamo la verità e non inventiamo nulla la Repubblica ombre nere stravince Salvini ma i sovranisti non sfondano affluenza record vota 1 su 2 sale l'onda verde il Lega primo partito verso il 34% ormai stamattina è già superato il PD sorpassa i 5 stelle e l'Europa Le Pen supera Macron giù socialisti e popolari tiene Merkel l'unione salvata dal voto dei giovani in Italia crolla il movimento di Di Maio vola il centrodestra esecutivo in bilico e Conte io non mi farò massacrare mentre alla sinistra segnali di ripresa per i dem e Zingaretti ho rischiato tutto in Piemonte e Chiamparino non ce la fa e vediamo che secondo il punto fatto da folli in questa giornata il governo è completamente ribaltato il capitano del Bibio tra vecchi e nuovi alleati e picchetti di cecco perché i populisti qui sono forti ancora una volta nella parte bassa la fiducia che resiste ancora nonostante tutto e Zucconi l'uomo che sapeva raccontare morto a 74 anni il nostro vittorio senza confini così viene raccontato da Ezio Mauro e la magia in una risata questo è il tracciato il racconto che ne fa Eugenio Scalfari ancora continuiamo a vedere le prime pagine quotidiane nazionali vediamo oggi che linee traccia il mattino e oggi l'annuncio di FCA Renault un'alleanza che non favorisce le nostre fabbriche mentre per il campionato Empoli in B finale batticuore Inter e Atalanta in Champions e ancora il cantire azzurro Festa Sampdoria per Quagliarella grazie a tutti il futuro dice Vedrò e intanto nella parte alta della pagina Triunfo Lega il PD sorpassa il Movimento 5 Stelle Forza Italia viene raccontata al 9 Meloni sopra 6 il leader leghista festeggia con il crocifisso accelerare il contratto e Di Maio dà la colpa all'astensione un ribaltone che mira il governo così racconta Alessandro Campi infatti in attesa di capire nel dettaglio da un lato come il voto italiano si è incrociato con quello degli altri paesi europei e dall'altro quale sia la nuova geografia politica del vecchio continente alle prese con la sfida minaccia dei populisti si può provare a ragionare sulla base dei primi dati giusto per comprendere in realtà che cosa ha determinato questi cambiamenti all'interno dei nostri partiti intanto Francia Germania Le Pen schiaffa Macron Merkel vittoria però solamente di mezzata e l'europarlamento boom verdi ma i sovranisti non sfondano PPS socialisti sotto il 50% mentre il carroccio sfonda anche a sud a Napoli e terzo Campania e grillini primi ma perdono 12 punti i democratici invece recuperano nei grandi comuni e ancora le idee perché il reddito non è bastato e a quanto pare anche il sud da stanotte è un po' meno giallo e sembra proprio essere questo il racconto che traccia questa configurazione di voto nella mattinata di oggi e sembra proprio che il sud non sia rimasto secondo quanto definisce il mattino ancorato a quelle che sono le mosse del Movimento 5 Stelle ancora vediamo nella parte bassa della pagina una notizia di cronaca una brutta notizia di cronaca a Cadice rissa tra studenti Erasmus in carcere solo il casertano liberi il napoletano e il salernitano infatti è scattato l'arresto per uno dei quattro italiani coinvolti in una rissa all'esterno di una discoteca di Cadice nella quale un trentenne spagnolo è rimasto gravemente finito a finire in manette il casertano Emilio Di Porto 29 anni sarebbe stato lui secondo le accuse a sferrare un carcio alla testa del ragazzo spagnolo che era già a terra dopo aver ricevuto un pugno ancora una volta la violenza sembra da farla da padrone e sembra davvero che chiunque si trovi all'estero e si voglia divertire semplicemente si dia l'alcol e poi quello che ne deriva è esclusivamente una violenza senza senso ovviamente da parte di tutti non solamente degli italiani ma anche degli spagnoli che si trovavano in questa discoteca e ancora vediamo il manifesto nella parte alta della pagina continuate a rompere siamo a 8.447 mattoni e nella parte centrale della pagina del manifesto vediamo Matteo Salvini che in segno di preghiera ringrazia l'Europa non si astiene sale l'affluenza e la frammentazione del Parlamento che perde la sua vecchia maggioranza PPSD volano i verdi e crescono i liberali il PSOE frena la discesa dei socialisti l'estrema destra vince in Italia Francia e Ungheria incoronato Salvini guadagna Fratelli d'Italia Forza Italia sotto il 10% crollano i 5 stelle mentre il PD risale la china male la sinistra e vediamo come titola appunto il manifesto in questa giornata ed eccolo qua Amen e in una sola parola viene detto esclusivamente tutto ancora vediamo gli altri fatti in primo piano con la stampa Ribaltone Lega Boom crollo 5 stelle Salvini oltre il 30% grazie Italia l'esecutivo non cade sorpresa PD è diventato il secondo partito il Piemonte a Cirio è ancora il capitano alla prova del successo vediamo i due vice premier in queste immagini mentre Matteo Salvini bacia il crocifisso dall'altro lato Di Maio è sfuggente e nella parte bassa della pagina Le Pen supera Macron volano i verdi Strasburgo respinge l'onda sovranista il fossato delle due Europe mentre ora inizia lo scontro frontale adesso si vedrà in realtà quello che succederà ancora vediamo le altre pagine dei quotidiani nazionali questa volta però i quotidiani sportivi Corriere dello Sport Firenze trova l'America i Viola restano in Serie A con il Genoa grazie al pareggio e ora i Della Valle chiuderanno la cessione del club a commisso via Corvino si salva Antonioni mentre nella parte centrale della pagina Conte in Champions Spalletti regala ad Antonio l'Europa nobile l'Inter piega l'Empoli che scende in B dopo una partita pazzesca per 2-1 decidono Keita naengolam nei miracoli di Andanovic Icardi sbagna un ricorre Luciano all'addio ora dice mi godo tutto Atalanta terza Milan in Europa D è un'Europa League scusate l'ultima di De Rossi che emozione un coro d'amore e DDR si inchina i tifosi lo invocano a gran voce e Daniele si conceda baciando la pista dell'Olimpico con l'abbraccio di Totti e le lacrime di Conti la Roma chiude battendo il Parma e ancora vediamo un'altra testata sportiva che è tutto sport Juve Sarri che è finale mercoledì la sfida con l'Arsenal per l'Europa League poi il vertice fra il tecnico e il Chelsea l'era Allegri si chiude con la sconfitta di Marassi per 2-0 ora scatta la settimana decisiva per il nuovo allenatore e staremo a vedere esclusivamente di chi si tratta e per quanto riguarda la prima parte della rassegna stampa quella dedicata ai quotidiani nazionali è tutto vi lascio a qualche momento di pubblicità ma ritorniamo subito dopo grazie a tutti Grazie a tutti. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente alla 30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ben tornati in studio, vi ricordo che siamo ancora a lunedì 27 maggio. Siamo proprio all'inizio in postelezioni, abbiamo visto quelli che sono i risultati, ancora per il momento parziali, ma sono quasi del tutto definitivi, mancano ancora poche sezioni da scrutinare. Ma adesso andiamo a vedere quelli che sono i fatti che riguardano la regione Campania e soprattutto come si è votato a Napoli. Andiamo infatti a vedere sul quotidiano larepubblica.it. Il voto a Napoli, la Lega al 12,4% avanza, ma non sfonda. 5 Stelle primo partito al 39,9%, crisi PD al sud. E infatti i PD democratici nel capoluogo risalgono sopra il 23%, male nella circoscrizione meridionale. Forza Italia crolla sotto il 10%. Il Regione Carroccio e Forza Italia più forti, centro-destra la prima coalizione. Ginepraio in campagna, il voto europeo nella Regione e a Napoli conferma i trend nazionali, ma consegna comunque una fotografia assai problematica dei propri equilibri interni. In sostanza anche da noi si registra il calo di 5 Stelle e Forza Italia e la crescita per contro di PD e Lega. Ciò non toglie che a Napoli città il Movimento 5 Stelle resti al 39,9%, perde quasi 13 punti percentuali rispetto al 52,6% delle politiche di un anno fa, ma resta di gran lunga il primo partito cittadino. Plausibile che il calo di Grillini corrisponda alla crescita del PD dal 14,7% al 23,3%, così come la Lega passa da 4,3% a 12,4% a scapito di Forza Italia, che cala dal 16,1% al 9,1%, superando così in discesa la sogna psicologica del 10%, il che ne fa la forza forse ora più in difficoltà in città. Resta il fatto che un Movimento 5 Stelle in piena crisi abbia un vantaggio sulla Lega che è tuttora maggiore di quello che c'era l'anno scorso a livello nazionale. E ci spostiamo adesso dalle europee, andiamo a vedere le notizie di cronaca di questa nostra regione. Napoli, corruzione e frode nelle gare di appalto per il porto e vediamo gli arresti. Infatti indagati addirittura due funzionari dell'autorità portuale, ma anche cinque imprenditori. Corruzione, turbativa d'asta e frode in pubbliche forniture nelle gare d'appalto per il porto di Napoli. Sono i reati contestati a due funzionari dell'autorità portuale di Napoli e a cinque imprenditori destinatari di un'ordinanza di misure cautelari eseguita dalla Guardia Costiera ed emessa dal GIP di Napoli su richiesta della Procura. Sezione reati contro la pubblica amministrazione. I soggetti destinatari delle misure, arresti domiciliari per sé e misura interditiva per uno, risultano indagati per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla Commissione. dei reati di corruzione, turbativa d'asta e frode in pubbliche forniture commesse nell'ambito delle gare di appalto bandito dall'autorità di sistema portuale del Martirreno Centrale, già autorità portuale, per l'esecuzione di importanti lavori edili e strutturali presso il porto di Napoli. Ma ancora vediamo gli altri fatti in primo piano da Napoli. Ci stiamo avvicinando a grandi falcate verso quelle che sono le universiadi e vediamo infatti Federica Pellegrini che dice universiadi importanti per l'Italia e la vediamo ritratta proprio in questa immagine. Ricordo le mie, sempre grande emozione, rappresentare il paese. Federica Pellegrini lancia infatti un messaggio per l'universiade che si terrà a luglio a Napoli in Campania. A margine del quarto Grand Prix città di Napoli, trofeo Coconuda in corso di svolgimento fino a domenica allo stadio di nuoto di Caserta, la Divina si è soffermata anche sulla Kermess di carattere mondiale. Si tratta di manifestazioni importanti per lo sport e per il nostro paese, lo dico da sportiva tifosa, che ha sperato fino all'ultimo che nel 2020-2024 potessero arrivare le Olimpiadi a Roma, ricordo le mie, di universiadi a poi detto. E' sempre una grande emozione rappresentare l'Italia in un contesto internazionale così importante. E continuiamo ancora sulla parte che riguarda lo sport, questa volta tutto campano. Il Napoli infatti chiude il campionato con una sconfitta. Il Bologna vince per 3-2, non bastano Goulam e Mertens. Il Napoli infatti chiude il campionato con una sconfitta, sfuma dunque il traguardo, chiesto da Ancelotti al suo gruppo, niente 82 punti in classifica. Gli azzurri perdono al Dallara con il Bologna in una gara caratterizzata da tanti errori. La partenza è positiva, poi il blackout nel finale del primo tempo consente ai Rosso-Blu di realizzare il doppio vantaggio. Napoli la rimette in piedi nella ripresa con Goulam e Mertens sfiora anche la rimonta, ma poi perde a 3-2 per la doppietta di Santanderra. E ancora andiamo a vedere le altre notizie. Questa volta sfogliamo la prima pagina del mattino. Andiamo a vedere proprio quali sono i fatti e come vengono raccontati in questa mattinata, da questo quotidiano tutto campano e soprattutto andiamo a vedere anche da qui proprio le notizie inerenti, le elezioni. Ma vediamo subito, eccole qua, le europee, elezioni, eccole qua, le elezioni e la Lega sfonda anche al sud, ma il Movimento 5 Stelle resta il primo partito a Napoli. Scosse telluriche di varia intensità che disegnano nella notte una nuova geografia politica rispetto non solo a 5 anni fa e soprattutto alle politiche dell'anno scorso. I unigrelini che perdono punti nella loro regione Roccaforte e la Lega che avanza erodendo il blocco di consenso che era di Forza Italia. Il PD che anche in Campania si ritrova vicino al 20, con il sogno di sfiorare quel 22% che potrebbe far scattare il quarto eletto Democrat nella circoscrizione sud. Ancora continuiamo a vedere la prima pagina del mattino, vediamo appunto quali sono i fatti in primo piano, andiamo proprio ad esaminarli uno per uno ed eccoci qua. Lega votata al sud canta la messa che dice torniamo al lavoro e governiamo, questo è il primo punto nell'intervista a questo esponente. Intanto vediamo De Luca, resiste nella sua Salerno, PD primo partito, superati i grillini, risuperati ancora una volta e andiamo a leggere proprio questa notizia in relazione al voto di ieri. E infatti vediamo che Vincenzo De Luca si riprende Salerno nella sua città, infatti il presidente della regione riporta ad essere il primo partito, il PD, raggiungendo così il 27%, le elezioni politiche di un anno fa i Democrat erano al 20%, risuperando i 5 Stelle che scendono al 23%, dal 39% del 2018, anche a Salerno quindi boom Lega, arrivata al 19%, partiva dal 4% a spese di Forza Italia, scese al 5%, dal 15% delle politiche, mentre Fratelli d'Italia passa dal 3 al 5, quindi anche qui una crescita per questo partito, per il partito della Meloni. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, anche da Avellino testa a testa, 5 Stelle PD in attesa dei voti delle comunali, e mentre vediamo a Benevento Campania in provincia, 5 Stelle al 40%, la Lega secondo partito. E Napoli i risultati gelano i 5 Stelle, dall'entusiasmo si arriva quindi alla delusione. Ancora vediamo la prima pagina, Sant'Antonio Abate, il derby dell'affluenza, Casoria, pensate un po', risulta essere vera e propria maglia nera di queste elezioni. E' ancora il primo sindaco eletto a Venticano, provincia di Avellino e Denisco, e ancora andiamo a vedere anche da questa prima pagina il mattino, Larissa Cadice e gli amici di Emilio ha cominciato a bere in Spagna, dopodiché si è arrivati proprio alla violenza. E ancora una volta si parla di cronaca e sangue, questa volta però ci spostiamo a Pompei, dove vediamo quelli che sono i fatti della Movida. Movida però di sangue davanti al Santuario della Madonna, pensate veramente che cosa accade. Infatti sangue nella Movida, una baby gang ha aggredito 5 ragazzi, caccia aperta ai piccoli bulli, le vittime tutte al di sotto dei 16 anni, non hanno subito la peggio solo perché sono riuscite a raggiungere il commissariato di pulizia di Pompei. Tutto è accaduto a pochi metri dal santuario, mentre il cardinale Crescenzio Sepe celebrava la chiusura del mese Mariano ed esortava i giovani, pensate un po' alla non violenza, parole pronunciate al vento per i 5 baby bulli, che dalle 22 di sabato hanno aggredito e spaccato la testa ad un ragazzo di 15 anni, una violenza assurda e inconcepibile, se si considera che alla base non c'è un movente. Il ragazzo ferito è stato medicato al pronto soccorso ospedale Castellammare, dove i medici gli hanno diagnosticato un profondo taglio dietro la nuca, che hanno suturato con diversi punti. Siamo stati fortunati, hanno raccontato le vittime della baby gang, abbiamo avuto paura e creduto che per noi finisse male. Per fortuna non è andata in maniera così disperata. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, ci spostiamo su Caserta News e andiamo a vedere anche su questa testata come si sono svolti i fatti. Infatti, speciale lezione, tutti gli aggiornamenti in diretta sul voto e andiamo a vedere proprio da questa pagina di Caserta News nella provincia casertana cosa è risultato, cosa è emerso. E infatti eccoci qua. Quel che è fatto è fatto. Alle 23 hanno chiuso le urne di questa tornata elettorale per le europee per 35 comuni della provincia di Caserta e interessate al rinnovo dei rispettivi consigli comunali. I dati dell'affluenza per quel che concerne terra di lavoro sono stati leggermente peggiori rispetto a 5 anni fa per il voto europeo così come rispetto a quello nazionale. E adesso si è passati appunto alle elezioni, allo spoglio delle elezioni. Matteo Salvini ha fatto la parte del leone anche sulle preferenze per quanto riguarda la provincia di Caserta toccando i 20.000 voti. E ancora intanto ci sono già tre sindaci che possono festeggiare. Stiamo parlando di Marcello De Rosa a Casa Pesenna, Lamberto Di Caprio a Caglianello e Amedeo Izzo a Ponte Latone. La loro unica sfida era quella contro il quorum del 50% ed è stata raggiunta già nel pomeriggio. Tutti i candidati delle liste in loro appoggio saranno eletti consiglieri comunali. Lo spoglio servirà solo a capire chi avrà preso più voti. Ovviamente questa è la situazione nella provincia di Caserta. Ancora vediamo speciale elezioni europee. Dati ufficiali 5 stelle al 32%. Boom Lega davanti al PD. È ancora in corso lo scrutinio, si attesta il dato sui partiti. Per i candidati c'è ancora da aspettare per definire tutti gli eletti. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano. Eccoci qua, vediamo la cronaca. Un giallo che riguarda proprio la provincia di Caserta. Siamo a Piedimonte Matese, ex maestra trovata morta con una ferita alla testa e giallo. La vittima è stata rinvenuta senza vita in bagno da un familiare. Indagano adesso i carabinieri. Giallo sulle cause della morte di questa donna di 46 anni a Piedimonte Matese che è stata trovata senza vita con una ferita alla testa nel bagno della sua casa in località Cappella. La vittima riferisce Andienne Cronos e un'ex maestra che da qualche tempo aveva smesso di insegnare per gestire insieme al marito un allevamento zootecnico di bovini e suini. Nella serata di ieri dopo aver pulito la stalla la donna si è ricata in bagno dove è stata trovata morta da un familiare. Al momento del rinvenimento la 46enne presentava una ferita alla testa che ha insospettito i parenti che hanno allertato i carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese. Su posto è giunta anche un'ambulanza con i medici che non hanno potuto fare altro che constatare appunto l'avvenuto decesso. Adesso indagheranno le forze dell'ordine per riuscire a comprendere che cosa ha determinato la causa della morte e soprattutto per comprendere chi ha causato questa morte. Per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi termina qui. Gli aggiornamenti nel corso della giornata per quel che riguarda le elezioni europee soprattutto nella provincia di Caserta e per quanto riguarda me vi auguro una buona giornata, vi saluto, ringrazio come sempre tutti voi per aver scelto Teleprima e ringrazio anche Tecnocampus di averci offerto la possibilità di fare informazione e di farla ogni mattina con voi. Buona giornata a tutti e buon inizio settimana. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus. Grazie a tutti.